Benvenuti a tutti i telespettatori di classe MISI all'interno dello spazio dedicato alle vostre domande come sempre se ne avete il 349-8275-983 a vostra disposizione come ogni giovedì abbiamo sempre il piacere di avere con noi Andrea Cartisano, Giotto Cellino, sì buongiorno, ma Andrea sei sotto l'acqua pure tu, non è zone tue quello dove... Buongiorno Devo fare una brutta battuta Eh, qual è? Del professor Sassaroli alias Adolfo Celi in Amici Miei Non ci posso fare niente se ho l'ufficio e l'appartamento in collina Nel senso che fortunatamente devo dire che noi siamo sopra la via Emilia e siamo per ora sempre stati risparmiati però la situazione è veramente drammatica Ah ho visto l'immagine C'è questo paese che si chiama Modigliana credo in provincia di Forri che è veramente proprio stato spaccato in due e oggi c'è praticamente un lago al casello di Cotignola che c'è Lugo Cotignola in Romagna Io tra l'altro ho abitato nella mia vita anche a Lugo di Romagna tra le altre cose Eh veramente, siamo vicini alla popolazione adesso speriamo che insomma si... Più che altro sai che cos'è che è drammatica? Modigliana è allagata e faenza anche, anche faenza Faenza dice il sindaco che è stata risparmiata perché i due torrenti che la attraversano la piena è già passata in quel senso è stata risparmiata Vedendo le immagini che ci sono qua non mi sembra tanto risparmiata No, risparmiata nel senso che fortunatamente la piena sembrerebbe essere passata però la situazione drammatica è anche data dal fatto che non è che dici sai l'ultima alluvione è avvenuta vent'anni fa Cioè, capisci qui ogni volta che cade una bomba d'acqua ci sono certe zone che purtroppo vengono Ovunque, ovunque in Italia Va bene dai parliamo delle nostre cose Allora Andrea, taglio da 0,50, tutti a festeggiare in borsa, i titoli salgono, gli indici stanno salendo Basta, è fatta, abbiamo risolto tutto In realtà questo taglio da 50 punti base ha complicato ulteriormente il compito dell'investitore E cerco di spiegarmi Perché se ci pensi nel 2024 siamo saliti su aspettativi di 5-6 tagli Che poi non ci sono stati E il mercato comunque ha fatto un rally importantissimo Guidato per carità dal settore bancario Adesso taglia 50 punti base che però, attenzione, nei sondaggi erano previsti Perché in 10-15 giorni si è passati da un 15% Anche una settimana Sì, forse una settimana Da una probabilità del 15% a oltre il 60% E Powell in questo senso è stato di parola Ha cercato di tranquillizzare il mercato dicendo L'economia americana è forte, non siamo in ritardo Però i famosi dot plot, come dicono quelli bravi Sembrerebbero smentirlo Perché comunque prevedono 50 punti base da qui a fine anno Quindi le riunioni sono due O due da 25 o un altro da 50 E altri 100 punti base per il 2025 Quindi gli investitori in realtà ieri Secondo me nella reazione post uscita taglio Hanno premiato subito il mercato Andando a fare nuovi massimi storici Sia sul Dow Jones che sullo Standard & Poor's 500 Poi in realtà hanno chiuso quasi sui minimi di giornata E ti dirò che tra le situazioni irrazionali nel mercato Quella che mi ha lasciato più perplesso È il movimento che c'è stato su Russell Perché Russell ha fatto quasi una gravestone doji ieri Ed è stranissimo perché di solito la storia ci insegna Che in un ciclo di taglio dei tassi Le medie e piccole capitalizzazioni Sono notoriamente le più favorite Da questa nuova situazione che si viene a realizzare Però oggi dai Russell, cos'è? 2,50? No aspetta, sì, fammi andare a vedere Ma infatti oggi sta già rimbalzando bene Esatto, esatto, sta lavorando bene Russell Sì, sì, 2,59% di rialzo Però ci sono tanti temi importanti oggi Il più importante è probabilmente il rimbalzo del lusso Perché ne hai parlato tu in apertura Tutto si gioca al momento Diciamo che se voglio fare un paragone Ma è la verità Louis Vuitton è la nostra invidia del lusso Perché è lo spartiacque per il settore Ieri il titolo, come ricordavi giustamente tu Ha rotto il livello importantissimo Di supporto statico di area 600 Oggi lo sta recuperando Sarà importantissima per Louis Vuitton La chiusura di domani Perché se chiudesse sopra 600 Potremmo ipotizzare una beer trap Questa è interessante Anche io sto monitorando bene Bisogna vedere domani Domani in chiusura di settimana Però bisogna fare attenzione Perché come ricordi tu Predicando prudenza Non è che per esempio Salvatore Ferragamo Anche se oggi rimbalza Perché si unisce Ovviamente al rimbalzo dell'intero settore È fuori dai problemi Perché Salvatore Ferragamo Ne abbiamo già parlato tante volte È una società che purtroppo Quest'anno farà tra i 10 e i 15 milioni di utili netto E vale la chiusura di ieri circa un miliardo Quindi sui fondamentali sarebbe estremamente cara Quello che abbiamo sempre detto È che se dovesse arrivare a certe valutazioni Probabilmente ci sarebbe l'interesse Di qualche player del settore Molto più grande Per fare un OPS Altro tema del giorno è Campari E anche qui fai bene A predicare prudenza Perché oggi E magari ci sarà anche domani Magari anche lunedì È un rimbalzo Sulle aspettative Più che materialmente Sugli acquisti Dell'azionista di maggioranza Di Campari Tra l'altro vedevo questa mattina Che E non lo sapevo Che si chiama Lagfin Cioè Lagfin lo sapevo La finanziata Ha 632 milioni di azioni Campari nel proprio portafoglio Per cui comprarne 100 milioni Di euro Di controvalore Perché ho visto che alcuni Hanno fatto un po' di confusione Oggi Vuol dire che Dovremmo verificare Il ritmo degli acquisti Perché ovviamente C'è Il rischio Che possa Terminare Anche in un tempo Ragionevolmente breve Se vai a vedere Ieri 180 milioni Ha scambiato E oggi Anche qua Quanto abbiamo scambiato Quindi Poteticamente Oggi Ne stava 180 milioni Quindi è presumibile Che si superi I 100 milioni E per la fine La giornata Sono già finiti Poi La motivazione Che hanno fornito È una motivazione Che può anche Non vederci Necessariamente In sintonia Con loro Perché E ne abbiamo parlato In Camera Caritatis Ieri Nel nostro briefing Telefonico Post Borsa Campari Purtroppo Io l'assimilo molto Ad Amplifon Cioè Sono due società Per carità Settori radicalmente Diversi Che Sono sempre state Premiate In modo A mio avviso Eccessivo Bisogna essere Odesti Dal mercato Perché Sono stati Sempre riconosciuti Dei multipli Clamorosi Amplifon È andato a valere Anche più di 40 volte Gli utili Più di 10 volte Le bidda 13-14 volte Ed entrambe Hanno un debito Decisamente alto Campari Per colpa A causa Dell'acquisizione Di Courvoisier Oltre un miliardo e due E Amplifon Oltre 800 milioni Per cui Il mercato Probabilmente Su questi due titoli Sta facendo Un repricing Quello che Mi spiego poco E poi Iniziamo a rispondere Ai telespettatori Anche se devo dire Una cosa importante Anche sul Fuzzi Futures È l'andamento Di Stellantis Stellantis Il rimbalzo di oggi Non ci sta a dire Nulla Se ci fosse Un minimo di razionalità Per due motivi Il primo Vabbè Lo avranno letto tutti Le vendite In Europa Sinceramente Io Ho detto Nel mio video Di preapertura Questa mattina Sul mio canale YouTube Che credo A memoria Avesse una quota Di mercato più alta La sola FCA Siamo arrivati Ormai Al 13,7% Ma il problema È che Con un mercato Che ha avuto Un calo Importante Stellantis Però Praticamente Ha fatto Meno 28,7% Ben peggio Dei suoi competitor Renault Meno 13 Volkswagen Meno 14 E attenzione Leggevo anche Che C'è il rischio Di una nuova Ondata di scioperi Negli Stati Uniti Da parte del sindacato United Auto Workers Che è quello Che già nel 2023 Ha messo in ginocchio I tre Grandi produttori Di auto Per lo sciopero Durato sei settimane Quindi Che oggi Tecnicamente Ci poteva stare Perché è su un'area Di supporto importante Ci fosse questo rimbalzo Così significativo Devo dire Che Mi lascio un po' perplesso Perché fa un po' A pugni Con quello Che ho appena detto Vediamo Che chiederanno MFA MFB Dai facciamolo subito Dai facciamo subito MFA MFB Così Ti risolviamo Sui super rally Sui dati Però Perdonami Solo concludo Con un altro Livello chiave Importantissimo Che è quello Di area 33.900 Del nostro Fiber Perché è un livello Che Ha respinto La risalita Nelle ultime sedute Ed è il livello Dove transita Anche la media mobile A 100 Per cui Visto che oggi È già giovedì Una chiusura settimanale Sopra quest'area Di 33.900 Al di là Che giustamente Ci sono le scadenze Tecniche trimestrali Però Potrebbe riportare Il mercato Anche sui massimi Di fine agosto Che sono A 34.550 Parlando invece Di MFA Ed MFB Erano entrambe In una situazione Però oggi Guarda Ti interrompo Su MFA Perché io L'ho fatta Con Caffari E l'abbiamo fatta In apertura E era partita Subito forte Poi iniziavano A preoccuparsi Anche qua Dicevano No ma sta calando Attenzione Perché anzi È anche È meglio Se cala Va a chiudere Il gap di apertura Perché poi riparti Oh preciso Andrea L'ha fatto Veramente Oggi Manuale Del bravo Analista tecnico Purtroppo no Purtroppo no Vabbè Non l'ha chiuso Perfettamente Però dai Eh ho capito Oh ma sei pignolo Madonna Io ovviamente Ho mancato L'operazione Perché ero Impegnato Dove tu ben sai Eh eh Va buo Va buo Guarda Non mi dire niente Che veramente Non ci voglio pensare A questa cosa Eh va buo Ci passo sopra Eh lo so Lo so Comunque se vai a vedere Ha ricoperto Praticamente Il massimo di ieri Ora non la chiusura Di ieri Ma il massimo Sì Perfetto Allora Ci dirò Tra le due Tra le due Più perfetta L'A della B Perché la B Il gap È un po' più ampio Di poco Eh parliamo di 3,96 4 Però Quello che è interessante È Rivederevi i dati Ottimo L'utile netto Perché ha fatto 104,7 milioni Da 87,1 Bene Anche l'ebit Che è 136,3 Da 120,9 Devono aver tagliato Bene i costi Perché Il fatturato In realtà è cresciuto Solo di un 7,8% Hanno generato Un flusso di cassa Per 223,4 milioni E il debito È comunque Ancora abbastanza alto Ma è sceso Tantissimo Perché Era 902,8 milioni Ed è sceso A 662 Entrambe Come dicevo Stavano Oggi Lo so che mi dai Del trader Del giorno dopo Però Costruendo Una base Accumulativa Per quanto riguarda La direi Area 2,75 Oggi A mio avviso Ho bruciato Anche un po' le tappe Perché io Nell'analisi Che ho fatto Proprio In preapertura Avevo dato Come target 2,972,99 Poi avevo detto Eventualmente Media mobile a 50 Per la 3,013 E media mobile a 100 3,0624 Siamo già andati oltre E visti anche I volumi decisamente Sopra la media L'idea è che Possa proseguire Anche domani Con un target A 3,194 3,228 Per la Per la B La fase Accumulativa Era Di area In area 3,80 Oggi Volate via Media mobile a 100 4,09 Media mobile a 50 4,11 E direi che A questo punto Può ambire Per un ritorno In area 4,40 3,498,275 9,23 Buongiorno Merida Torino Vorrei entrare su A2A Ferrari A questi prezzi Cosa ne pensate? Non lo so Io A2A Magari Ferrari Che dici tu? Ma allora Quello che ho già detto Lo ribadisco Per me Se il mercato Tornasse a essere Un po' più lineare Perché Sinceramente Anche la resilienza Delle banche Con un ciclo Di ribasso Dei tassi Possono dire Quello che vuole Però il dot plot È un 1,5% Nei prossimi 14 mesi E secondo me Questo sarà vero Se l'economia americana Si manterrà Sui livelli Che ha dichiarato Powell Perché ci sono Anche dei dubbi Io sono tra coloro Che dicono Che un minimo Di window dressing Sui dati Macro americani Secondo me C'è Perché io Oggi tra l'altro Escono le 14.30 Le richieste Di sussidi Di disoccupazione E quelle continue Sono da un anno Su 1.8.50 Da agosto Settembre 2023 Con licenziamenti A catena Da parte Di tante Big cap americane Quindi insomma Però Quello che tu dici È vero In questo senso Che Probabilmente Le utilities Potrebbero Iniziare Una fase Di correzione Di breve Perché Il rally Che hanno fatto Nelle ultime Settimane È un rally Pre taglio Tassi È come se Avessero Anticipato Un taglio Di tassi Delle banche centrali A proposito Oggi c'è Anche la Bank of England E poi ho visto Che c'è Visto che avete citato La Norvegia Il Sudafrica Che tra l'altro Non sapevo Avere dei tassi Così alti Perché ce li ha All'8.25% Insomma Quindi sono Davvero Tassi Molto molto Alti Però Non è che Tu Non possa Comprare Un utilities Anche se Sono salite Tutte Decisamente Molto A2A In primis Che è tornata Su livelli Che non vedeva Da 2008 Però L'acquisto Andrebbe fatto Su debolezza Per cui Io aspetterei Almeno Un test Di area 2 Come minimo Mi raccomando Però Su un aspetto Non è che Se settimana prossima Arriva A 2.005 Noi compriamo Subito Deve fare base Su quel livello Perché Poi potrebbe Anche Eventualmente Andare a ritestare Al media mobile A 100 Che è 1.9515 Quindi Bisogna Aspettare Che il titolo Corregga Faccia la sua base E allora Provare a tenere Io credo Che Comunque Tutti Tutto il settore Se le banche centrali Manterranno Questa Promessa Di tagliare Almeno Delle entità Che hanno dichiarato Perché poi La BCE Per me Andrà dietro La Fed Se no Si apprezza Troppo L'euro Dollar Allora Le utili Saranno Il segmento Di mercato Più importante Per i prossimi 12-18 mesi Per quanto riguarda Ferrari Paradossalmente La candela Di oggi Al momento Mette un po' In crisi Il quadro Tecnico Ribassista Non del tutto Perché oggi Se non ci fosse stato Un rimbalzo Del settore Lusso Probabilmente Ferrari Sarebbe andata Già A chiudere Il gap Lasciato Aperto Sul massimo Del 14 Di agosto Che è 406 Tra l'altro La media mobile A 50 E poco sopra A 408 Punto 2 Quindi Nonostante Oggi Ci sia un rimbalzo Visto che Quota ancora Oltre 50 Volte Gli utili Io Aspetterei Almeno La chiusura Gap Per provare Un ingresso Però Dipende Anche Dalla propensione A rischio Che ha la telespettatrice Perché Comunque Sotto Ci sarebbe anche La media mobile A 100 Che è 396.8 E poi Il minimo Di quel 14 Di agosto Che è 392.4 Quindi Entrambe Sono due società Che si possono comprare Ma solo su debolezza Nella fattispecie Per Ferrari Assolutamente Non prima Della chiusura Gappa 406 Va bene Dai Allora Continuo con le domande Visto che abbiamo ancora Alcuni minuti Prima della pausa Andiamo a lavorare Con il titolo Vediamo un po' Adesso ci arrivo Federico da Paderno Che mi scrive Commodities Allora Questo è lo zucchero L'abbiamo già visto Flavio da Lugano Sempre oro Non fisico Anche questo L'abbiamo già fatto Potreste analizzare Eviso E iVision Tech Per investimento Di medio e lungo Quando entrare Marco da Aragona Allora Cominciamo con Eviso Eviso Però devi farla tu 1,12% Di rialza 5,4% Io mi sono espresso Però adesso tu mi hai ripreso L'altro giorno Mi hai detto No no Tu non devi dire niente Però non ce la faccio Lo sai che Sarà difficilissimo Che non riesco A dare la mia opinione Infatti I telespettatori Non lo sanno Ma hai cognato Anche lo spot Regalami un Eviso Comunque A parte tutto In effetti Ci sono due Fattori positivi Il primo Che è quello più importante Per un investitore In medio e lungo periodo Che sono i numeri Che la società Sta pubblicando Trimestre dopo trimestre Che sono numeri positivi E il mercato Sembra assolutamente Essersi Accorto del titolo Perché in realtà Adesso Sta provando Nuovamente A rompere Il rialzo Area 5,50 Per riportarsi Sui massimi Di fine maggio In area 5,90 Che sono anche Massimi storici Per cui Sinceramente Se chiudesse La settimana Sopra 5,50 5,50 5,90 In poche sedute Lo può fare Tranquillamente C'è sempre L'alternativa Per chi Avesse Un'impostazione Più conservativa Nei propri investimenti Di comprare La debolezza E allora Direi area 5 Però l'impressione È che possa Andare a rompere Il rialzo E ritornare Sui massimi storici Di area 5,90 I vision Fammi fare Una verifica Se riesco O ce l'hai tu Non vorrei che Uccissero oggi I dati Fammi vedere Sì Spero che ce l'ho qua Cda Today No Oggi no Perché c'è solo MFE No C'è No Domani No Neanche domani Domani abbiamo Conafi Gibus Green Thesis Mediobanco OVS Il 20 Atec Club Comal DHH Girent Health Italia Mistano Il 25 Il 25 L'ho trovato Però mancano alla fine 6 giorni Quindi ecco Per queste società Che hanno poca storia È particolarmente importante Vedere le trimestrali Che pubblicano Il titolo adesso inserito In un trading range Compreso tra 1,48 E 1,84 E sta provando A fare base Poco sopra La media mobile a 100 Che è 1,58 2 Se dovesse tornare In area 1,48 Che è un doppio minimo Minimo 25 di luglio E minimo 11 di luglio Si potrebbe Provare Un acquisto L'unico Mio dubbio È che lo stop Però Dovrei metterlo Abbastanza largo Perché la media mobile a 200 È 1,30 Praticamente Il minimo del 9 di luglio È 1,26 Però Su Eviso Sarei più caldo Per comprare Anche eventualmente Il breakout Su E-Vision Vorrei aspettare i dati Perché ripeto Alla fine È una società Che non ha Tutta questa storia Perché è quotata Da poco più di un anno Quindi è importante Anche se poi Ovviamente Questo non posso dirlo Poi lo dico in camera Però diciamo Il business di E-Vision È interessante Mizzica È interessante No Sto facendo una battuta Che non possiamo fare Se a questo Gli riesce Di portare a casa L'occhiale Per i ciechi Ce l'abbiamo Diciamo che Non fa prezzo Per un mese Questo Guarda veramente Ciao Emery Ma alla fine Campari non l'ha fatta Gartisano Fin dove può arrivare Il rimbalzo Grazie mille Come sempre Davide Allora dai Facciamo Campari Al volo Beh uno che si chiama Davide È ovvio che ci chieda Di Campari La battuta Questa è bella Bellissima Non so che tu Le prendi A scoppio ritardato Bellissima Bellissima Dai 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 Fai campare Che sennò Siamo in ritardo Già Di mille anni Va buo Allora Diciamo che Innanzitutto Adesso è sospesa 7,91 Con un teorico A 7,52 2 Appena sotto Il prezzo Di sospensione Oggi aperto In forte Gap up E ha fatto Quello che ha fatto Più o meno Mfe Perché è tornata Leggermente indietro Ma il gap L'ha lasciato aperto A 7,25 4 Ci chiede Un target Per il rimbalzo Ti direi 7,74 8 7,85 2 Oltre La vedo dura Per due motivi Il primo Perché per me Questo rialzo Parlo come Quelli bravi Dovuto All'AIP Degli acquisti Dell'azionista Di maggioranza E L'analisi tecnica In questi casi Ci viene sempre In aiuto Il titolo Accelerato Quando ha perso Il minimo Di periodo Del 30 di luglio 7,82 2 Il massimo Del 16 di settembre 7,85 2 Alla regola Addirittura Lì Si potrebbe Aprire Una posizione Short Speculativa Nel senso Che Quello Dovrebbe essere Un pullback E il titolo Poi tornare A scendere O comunque Lateralizzare Prima di ripartire Per cui Siccome la domanda È molto precisa Io direi 7,85 2 Il target Di questo movimento Di ribalzo Va bene Dai Diasorin In carico A 116 Ferretti In carico A 281 Diasorin 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 Devo dire Che Il prezzo Medio di carico Oggettivamente È alto Ma Spiego il perché Non perché Oggi vale 103 Sai che io Essendo Un uomo Di strada Autodidatta In tutto e per tutto Non mi permetto Mai di essere Salcente Nei confronti Dei telespettatori E degli investitori Però questo è uno Dei pochi punti Che tendo A sottolineare Sempre quando capita Qual è il problema Di questa posizione Che se io Ho Comprato Diasorin A 116 Vuol dire che ce l'ho Da marzo 2023 Questo significa Che ho visto Il titolo Ma Penso 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 O potrebbe averla Da ottobre 2022 Però Almeno da marzo 2023 E Vuol dire che Ho visto I minimi Di fine ottobre Poco sopra 81 Quindi L'errore qui Non è Aver comprato A quel prezzo Perché ci poteva Anche stare È Non aver gestito In maniera Propositiva La posizione Chiudendosi Quando Probabilmente Ha perso Qualcosa Era 105.7 Ecco Minimo sul settimanale Della terza di marzo 2023 Adesso Va benissimo Il titolo Può rompere Area 106 È nella possibilità Di farlo Al momento Siamo in Training range Training range Compreso tra 99.7 E 106.05 Però La gestione Iniziale A posizione Non mi Piace Moltissimo Il target Più che 106.9 Potrebbe diventare 110.55 Io Però Consiglierei Di monitorare Il livello Che ho detto Di 99.7 Perché Appena sotto La media mobile A 100 Che è 99.9 Perché sotto Questo livello Si torna subito A 97.16 E poi A chiudere Il gap È stato aperto Sul massimo Del 2 di luglio Che è 96.48 Cosa voglio dire Ormai Il titolo È ovvio Che me lo tenga Però Se per caso Anche se Non ci sono Al momento Le condizioni Per un'accelerazione Di basso Dovesse però Nuovamente Iniziare a scendere Valuti Questa volta Uno stop Di applicarlo Perché L'ultima volta Se si fosse stoppato Sarebbe potuto Rientrare Non dico sui minimi Ma magari A 85 A 90 E adesso Essere In guadagno Per cui L'errore Per me Iniziale Non tanto adesso Andava gestita meglio La posizione Quando Ha comprato il titolo Uno stop loss Da posizionare Non appena Avesse perso Livelli statici Significativi Ferretti Ah scusami Ferretti Ecco Ferretti guarda Ferretti Sinceramente Me la spiego poco Perché Me la spiego poco Perché Sto notando In realtà Una debolezza Poi tu mi puoi dire Ma associata Al settore lusso Però sai Adesso Dovrei No Io su Ferretti Non sono caldissimi No Aspetta La nautica Ferretti San Lorenzo E anche Altre non quotate Ma mettiamo Ma io non li metterei Sullo stesso Ma bene Stanno fanno Chiaramente Lo stesso settore Ma San Lorenzo Italian Sea Group Li vedo sempre più forti Rispetto a Ferretti Ferretti La vedo sempre più Allora Allora In realtà In realtà Quello che tu dici È vero Solo in parte Perché se tu guardi Un grafico di San Lorenzo Che è una società Che io ammiro tantissimo San Lorenzo ha fatto Massimo storico Il 15 di maggio A 46.3 Siamo scesi Comunque a 32.9 Che cos'è Che lascia perplesso Dell'andamento di Ferretti Che nel frattempo È tornata Ma non una vita fa Il 10 di settembre Sui minimi storici A 2.47.5 Adesso però L'unica voce Che può disturbare Il titolo Al di là dei fondamentali Che io considero buoni È che si vocifera Sempre dell'uscita Potenziale Dei cinesi Dal capitale Però adesso Vedo il titolo Pronto per rompere Il rialzo Quindi rompere Area 2.70 Per un target A 2.82.5 E poi 2.92 Ti dicevo Mi sorprende Perché Forse anche a Caffè Fari Stamattina c'era il servizio Sulla Nautica Che in realtà È partito il salone Mi stupisco di te Ma no Te lo stavo dicendo Saloni di Genova Voglio dire Che però Attenzione Quando c'è il salone di Genova Io quando lavoravo In Millennium Era l'unica settimana Che non mi presentavo A Genova Perché gli alberghi Mi li mettevano il triplo Attenzione Ecco Quindi Diciamo che Se devi andare per il salone Un conto Se devi andare Per lavoro Da turista È proprio la settimana Da evitare Comunque A parte questo Dicevo che Sentivo nel servizio Che comunque Lo scorso anno È cresciuto di un miliardo Di euro Il fatturato del settore E per cui Vedo un possibile Ritorno per Ferretti Sino in area 2,90 Considera che la media mobile A 200 E poi 2,94 e mezzo Quindi direi Che per Ferretti Il peggio alle spalle Va bene Allora Continuiamo con le domande Alla luce del fatto Che Terna Agosto Consumi elettrici Più 8 Record Va bene Andiamo avanti Guardando il grafico Di Telecom A due anni Oggi è stata stoppata Impeccabilmente L'incrocio Con la ribassista In essere dai massimi Di settembre 2023 Grandissima analisi tecnica Se dovesse superare Quel livello Con forza e volume Potremmo andare A rivedere gli 0,30 Sicuramente Cosa ne pensate? Io concordo Ma insomma Su Telecom L'analisi è perfetta L'avremmo ugualata Senza che Appara adesso Magicamente nel grafico Con tutte le condizioni Che aveva dato Anche il telespettatore Che dici? Ma io sono Te l'ho detto E non sono mai stato Cioè Leggero su Telecom Ma invece La vedo proprio Negli ultimi Un paio di settimane Mi piace Ora Non so quanto durerà Questa cosa Però per ora Mi piace Vai Il successo di Telecom Di breve Ha un nome Un cognome L'hai detto tu Questa mattina Davide Leone Che io personalmente Non conoscevo Me ne scuso con lui Perché giustamente Magari gestisce Dieci miliardi E posso farli Dalla che al massimo Però Ti compra Ti metti in giardino Eh sì Come nano Come disse Antonio Conti In una puntata Di scherzi a parte Ti faccio fare il nano Nel mio giardino Gli ha detto Ma questa era una battuta Che era ricorrente Dai calciatori Anche Bettarini La fece una volta in tv Eh bene Si vede che girava nell'ambiente Allora Dicevo Che la cosa incredibile Perché magari Non ci guardiamo Non è tanto L'ordinaria Che io Sono d'accordo Col telespettatore E veramente la risparmio Perché Se fossimo Sugli stessi livelli Di prezzo In proporzione È una cosa empirica Ma ha un suo senso L'ordinaria Ha un target In realtà Capisco Area 0,30 Molto importante A 0,27,42 Che è il massimo Il 7 di marzo Quella famosa seduta Da meno 23% Incredibile Che anch'io Rimanei vittima In maniera clamorosa Però La risparmio Il massimo Di quella seduta L'ha già superato E nettamente ieri Perché E' qua E' sul risparmio Che c'è La vera speculazione Perché Da quello Che ho potuto capire Davide Leone Si aspetta Che La risparmio Debba Staccherà I dividendi Arretrati Che sono poi E' l'orn out E' l'orn out Anche Esatto Per cui Al momento È decisamente Più forte La risparmio Dell'ordinaria Però Io Mi limito Adesso Perché è un livello Veramente importante A dare Uno 027 E 42 Per L'ordinaria Perché è il massimo Del 7 di marzo Poi Più che Area A 030 Che è un pochettino Non è lontana Però È fin Troppo Direi che 029 E mezzo È già Un livello Veramente importante Poi prima c'è Uno 028 85 Però Devo dire Che La mossa Vincente L'ha fatta Che ha puntato Sulla risparmio Perché sta Effettivamente Sovra performando In maniera significativa L'ordinaria Bella Bella Niente Basta È fatta È fatta No Accena ancora tanta I limiti I limiti bank Anche il limiti Sembra Almeno Non mi pareva Adesso che Ci fosse stato Un sussulto Quanto è che fa 4,60 4,60 Però No Non mi ricordavo Un mezzo sussulto Mettiamola così Dai Però c'è Allora C'è un aspetto Positivo Che finalmente Vediamo Dei minimi Crescenti Nel senso che Il titolo ha fatto Un nuovo minimo storico A 4,25 E Tra l'altro L'ha fatto in agosto E Il minimo di breve È stato a 4,38 Per cui L'impostazione tecnica Di breve Per una rottura Di area 4,70 Un target Sulla media mobile A 100 A 4,79,6 E poi Direi Media mobile A 200 Che è 4,88 Il massimo Del 30 di agosto È 4,91,6 Fin qui Il titolo Può indubbiamente Arrivare Il grosso problema È che Tutte le volte Che sembrava Uscire Dalle sabbie mobile Il caso di dire Di dirlo non me ne voglia Il dottor Passera Facciamo un esempio 30 di maggio Seduta la più 9 Con chiusura A 5,21,5 A metà giugno Era già di nuovo 4,61 L'ultima Che aveva fatto Ben sperare 30 di agosto Chiusura A 4,89 Ritracciamento Fino a 4,38 Per cui Se per una volta Riuscisse A rompere 4,91,6 Che è il target Che ho indicato prima Ci sarebbe finalmente La possibilità Di nuovi massimi Di breve 5,0,75 5,17,5 Però L'impostazione Tecnica Per le prossime sedute È Di Continuo recupero Dai minimi Per cui Se ho il titolo Faccio bene Assolutamente Catenermelo Va bene Allora Continuiamo Buongiorno da Napoli Analisi su Saipem Etenaris Prezzo di entrata Saipem Ecco Saipem Però I fatti Hanno dimostrato Che Quella Del 10 di settembre È stata Una Terribile Beer trap Per Trappolone Coloro Che Come me Io per fortuna Non l'avevo Però L'avessi avuta Molto probabilmente Mi sarei preso Lo stop E sarei Stato cornuto E mazziato Che cosa Ha salvato Il titolo Da Ulteriori minimi Le due commesse In sequenza Una da 4 miliardi E una da 2 miliardi Che anche Se Saipem Ha un backlog Sicuramente Importante Sono comunque 6 miliardi In 2-3 giorni E adesso Si sta portando Sul target Naturale Di area 2-10 C'è la media Mobile A 50 2-0-85 Massimo 27 di agosto 2-0-98 Poi poco sopra C'è la media Mobile A 100 Che 2-15-4 Però il telespettatore Ci chiede un ingresso Allora I casi sono due O compri il breakout E io tenderei A evitarlo Non perché Non lo faccio Quasi mai Ma perché Il titolo Dai minimi Ha effettivamente Rimbalzato piuttosto bene Ma C'è un bel Mini accumulo Sulla media Mobile A 200 Per cui Proverei Entrare Long Su Saipem Se dovesse Tornare A Rotondo 1-94 Dove Ha La media Dove transita La media Mobile A 200 Con Uno stop Però Tassativo Stop loss Sotto il minimo Del 10 Settembre Che è 1-78-85 Tenaris Allora Tenaris È rimasta Decisamente Indietro Perché Se pensiamo Che Valeva A fine aprile Poco meno Di 18 E 75 È vero Che Lassù Fece Una distribuzione Bellissima Dalla Seconda Metà Di Marzo Fino Alla Prima Metà Di Aprile Però Adesso Si trova Proprio Nella Parte Bassa Di Un range Nella Parte Alta Di Un range Che Sui Minimi Volevo Dire Compreso Tra 12.05 E 13.63 Credo Che Questa Volta Andrà A rompere Il 13.63 Per portarsi Prima Sulla Media Mobile A 100 Che 14.216 E Poi A 14.65 14.86 E Mezzo Anche qui Chiede Un ingresso Le alternative Sono sempre Due O comprare Breakout 13.63 O comprare Un mini Ritracciamento Il mini Ritracciamento Significa Minimo Di Martedì 12.89 E Mezzo Stop Se si compra Anche su Debolezza È Tassativo Sotto 12.05 Allora Analisi Su Avio Ricordate Entrambe In ottiche Difensive Vista La stagionalità Dei mercati Cristiano Da Alzate Brianza Allora Cominciamo Con Avio Ricordati Avio Sinceramente È vero Che Ha fatto Questo Minimo Il 12 Di Settembre 11.40 E poi Ha chiuso Comunque 11.90 Però È ancora A rischio Potenziale Rottura Ribasso Dove Potrebbe Arrivare 10.96 10.92 E poi Media Mobile A 200 Che 10.63 3 Io Anche se Come ho detto Prima Non lo faccio Quasi mai Aspetterei Un ritorno Sopra 12.10 Meglio 12.22 Dove transita La media Mobile A 100 Per Un ingresso Perché Non so Ancora In tutta onestà Se Quel minimo Di 11.40 Riuscirà A essere Tenuto Di certo Se dovesse Arrivare Invece A testare Il doppio Minimo Sporco 10.96 10.92 Lì Proverei Probabilmente Un acquisto E lo stop Lo metterei Sotto La media Mobile A 200 Diverso Il discorso Di Ricordati Perché Ricordati Comunque È In una Tendenza Ribassista Abbastanza Marcata Dopo Massimi Importanti In area 53 Qui però Dobbiamo Sicuramente Mettere Il titolo In watch List Perché Sta Provando A tenere Un livello Importante Che Quello Di area 50 Considerato Che A 50 E 13 C'è la media Mobile A 100 E a 50 E 14 La media Mobile A 200 Quindi Qui Se il titolo Rimanesse Sopra 50 Per Diverse Sedute Potrei Valutare Un acquisto Però Il problema È che Se dovesse Perdere Il livello C'è spazio Almeno Fino A 48 E 4 47 E 98 Di Target È vero Che Magari Come ha parlato Il telespettatore Preferisce Tenere le posizioni Per più un periodo Però Difficilmente In caso Di rimbalzo Nelle prossime Settimane Il titolo Andrà Oltre 53 53 25 Quindi Io Probabilmente Se facessi L'operazione Lo stop Lo metterei Più stretto Addirittura Sotto 49 E 62 Che è il minimo Del 14 Di agosto Però È da osservare Perché potrebbe Iniziare a fare Una base Accumulativa Poco sopra Area 50 Buongiorno Vediamo un parere Sia fondamentale Che tecnico Su Ariston In ottica Medio-lungo Periodo Eh Ariston È una partita Difficile Che dici? Andiamola Un attimo A rivedere Anche se Più o meno Mi ricordo Di dati Abbastanza Imbarazzetti Però Li riapro Al volo Così Li vediamo Assieme E lì Bisogna dire La verità Che c'è Che c'è Purtroppo Una giustificazione Al ribasso Significativo Sul titolo Perché dopo La famosa Acquisizione In Germania È andata Sempre peggio Soprattutto I primi sei mesi Hanno avuto Un calo Del 15% Nei ricavi 1 miliardo 2,74 Complessivi E L'ebit Addirittura È sceso Del 62,3% E il debito È aumentato A 721 milioni Da 611 Non è Detto che Questi dati Così brutti Perché io credo Che il mercato Peraltro Li abbia Scontati Possano Nelle prossime settimane I prossimi mesi Portare A nuovi minimi storici Perché quelli Toccati il 26 di luglio A 3,37,4 Mi sembrano Già abbastanza Profondi Vedo Anzi Adesso La possibilità Di un ritorno Sulla media mobile A 100 Che è 4,23,9 E poi Sul massimo Del 27 di agosto Che è 4,34 Poi c'è un 4,38 Massimo 19 di giugno Quello che penso È che Adesso Un rimbalzo Il titolo Lo possa Centrare Però Se Il prossimo Semestre Sarà Nuovamente Molto deludente Il rischio Che il titolo Torni Ancora indietro Perché Effettivamente Al di là Del debito Che con Tassi in calo Può essere Un po' meno Problematico Comunque C'è stata Una riduzione Davvero Significativa Della marginalità Quindi Adesso Sarei più Dell'idea Di fare Il titolo Da trading E non Da investimento Perché Mancano Per essere In investimento Dei dati Migliorativi Da parte Società Che nei primi Sei mesi Non abbiamo Visto Posso avere L'analisi Di Tinexta Andiamo Su Tinexta Anche Tinexta È un bel Problema È un bel Problema Perché Anche qui I dati Erano stati Oltre Modo Contipli tali Che il mercato Li vende Il più Clamoroso Per me Sull'istino Italiano Che non Ho capito Perché il mercato Se ne sia Accorto Così tanto È Tecnoprobe Tecnoprobe È passata Da 9,90 A 6,50 Il minimo storico È poco Più di 6 Ma ancora Adesso Vale Più di 30 Volte Gli utili Quindi È importante Sì Andare a cercare Le occasioni In tante aziende Che Hanno avuto Correzioni Importanti Ma poi Bisogna vedere Anche Quanto sono valutate In base Ai fondamentali Vale un po' Il discorso Fatto con Ariston C'è bisogno Da parte Della società Di un cambio Di passo Per ritornare Alle marginalità Di un tempo Tra l'altro Ieri ho dato Il mio obolo Per la PEC Perché io ce l'ho Con InfoCert Che è loro Avevo il rinnovo E si fanno pagare Anche abbastanza bene Però Nonostante Il fortissimo Ribasso Di breve Motivato Da questi dati Deludenti Può tornare Fino ai massimi Di breve periodo Del 2 di settembre Che sono A 13 E 12 Poi c'è Il massimo Del 5 di agosto Che è 14 E 15 Quindi Sinceramente L'impostazione tecnica È per Un tentativo Di rimbalzo E di limitare Un minimo I danni Che ci sono stati A partire Dal sell off Di metà luglio Quando Di doveva ancora 1764 Però Ripeto Nel medio periodo Ci vuole Un ritorno A marginalità Migliori Rispetto a quelle Pubblicate Nel primo semestre Ciao Meglio questo Ritorno ad essere Quotata breve Che ne pensi Alla luce Delle notizie recenti Tiziano Bologna Niente che Abbiamo avuto L'ufficialità Ieri sera Di quello che Vi avevo già indicato La settimana scorsa Ossia Che il limiti È tornato A essere Ega Saladini Ha rimesso Le deleghe Da presidente Da consigliere È entrato Il nuovo Amministratore Delegato Che è Mauro Girardi Vicepresidente Di Borgosesia E co-amministratore Delegato Di Borgosesia E no Ecco L'unica cosa Che non vi avevo segnalato Era che Saladini Invece Adesso ha Il ruolo Di direttore Generale Per il ritorno Delle quotazioni Adesso bisogna aspettare L'approvazione Del bilancio C'è da dire Che la situazione Che stava girando In maniera molto brutta Proprio Tra l'altro Ieri Anche l'ultimo giorno Dalla scadenza Di sei mesi Scaduti I quali Se non c'era Se non veniva nominato Lega Veniva Delistata completamente È stato scongiurato Questo delisting Ora devono Lavorare Per rimetterla in piedi Sta girando Al meglio C'è ancora Tanto da lavorare Lasciamoli lavorare La cosa positiva Secondo me È che Insomma In una situazione Che poteva veramente Diventare una brutta pagina Dell'EGM Adesso Sembra si stia Rimettendo in careggiata C'è ancora tanto da lavorare Teoricamente Vediamo Appena riesco Li avrò in trasmissione Soprattutto Vorrei parlare Con il nuovo Amministratore delegato E niente Ben fatto Mi viene da dire Allora Ci sono stati Tanti errori precedenti Questo l'abbiamo discusso Però Di positivo C'è che Nel sistema Ha fatto quadrato E adesso Si riparte Per il Ritorno alla quotazione Bisogna aspettare Prima l'approvazione Del bilancio E quindi C'è ancora da lavorare Ma Diciamo che È stato scongiurato Il peggio Ecco Mettiamola così Niente Vuoi aggiungere qualcosa Al cartisano? No Eh no Sono piacevolmente sorpreso In effetti Devo ammettere Che tante volte Ti sottovaluto Grazie Grazie È sempre un piacere Avere che fai Adesso Adesso però Visto che Meglio questo Ritornerà in quotazione Lancio Il comitato C'è da provare Prima il bilancio Adesso Ci abbiamo un'altra partita Da fare attenzione Che è Buongiorno a me Che chiedo al grande cartisano Di parlare di Ilbe Iervolino Che ha lasciato La Io dicevo Mi ha interrotto Che Mi farò promotore Del comitato Riammettiamo Agatos A sto punto No Aspetta Non esageri Vabbè ma lì Vabbè non mi far dire niente Che con Agatos Già È passato Già dei precedenti Quindi Allora senti noi Invece dobbiamo parlare Di Iervolino Della Iervolino e Lady Bacardi Perché qua Iervolino Si è dimesso da presidente Da amministratore delegato Mi sa che Tra i due Tra Iervolino e Lady Bacardi Non è che Scorra più buon sangue E adesso Che succede alla società Questa è una bella domanda Che dici Su Iervolino e Lady Bacardi Eh beh c'è poco da dire Nel senso che Io lo sai che E' un'altra delle previsioni Che ho azzeccato Devo dire la verità Io quando tutti Mi dicevano Iervolino Iervolino Perché c'è stato Il suo momento d'oro Era arrivata addirittura A 6,1 Ha quotato Tattatù Che ho visto la capitalizzazione Quando gliela quotavano 2 miliardi e mezzo Quanto? Saltato sulla sedia Tattatù Mi piaci tu Se potesse incassare Sarebbe uno degli uomini Più di chi d'Italia Secondo me Farebbe fatica a incassare Perché credo che Scambi sempre Dei controvalori Veramente Quello Quello è un mistero Devo dire la verità Però Tornando a Iervolino Se ti ricordi Faccio solo un escursus No Io so che quando tu mi dissi Guarda Finché Va tutto bene No Vabbè Perché lì Ho visto Il documentario Superricchi d'Europa C'era lei Nel suo appartamento Di Monte Carlo Che dice Io ho sposato Le regi All'estia Bacardi Ho un patrimonio Di 3-4 miliardi Ho detto Beh allora Finché c'è lei Siamo a posto Lei nel suo ruolo Non andiamo oltre Però Quello che voglio dire io Se ti ricordi Io avevo Nutrito Dei grossi dubbi Sui bilanci Di Ervolino Nel senso che Aveva Quella Diciamo Possibilità Di distribuire Dei film Prodotti E girati Negli Stati Uniti Per il mercato Del sudest asiatico Il Far East Ed era Una delle poche O forse l'unica E noi Anche tu Eri poco caldo Per cui uscivano Questi numeri Pazzeschi Però basati Sostanzialmente Su questo Che mi sembra Valutazione Dei film Sì 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 Abbastanza Però eravamo arrivati A 180 milioni Io gli dicevo Ma ammazza 180 milioni Sì ma infatti Che poi Che poi Cioè è difficile Io lo sai Quanto Ammiri Te l'ho detto Tante volte Però lui Aveva una gran bella storia E la raccontava bene Veramente Sì Lo storia Era eccezionale Però Il mio ragionamento È questo Se Va in difficoltà E sai quanto Io Abbia ammirato Sergio Leone Che è uno dei più Grandi maestri Di cinema italiano La Leone Film Non me ne vogliano Andrea e Raffaella Va in difficoltà Notorious Pictures Va in difficoltà Lucisano Cioè tutto il settore Cinematografico Italiano Quotato e non È andato in difficoltà Negli ultimi anni Probabilmente anche il Covid Ha avuto il suo contributo Estremamente negativo E tutte queste società Di produzione cinematografica Hanno un problema enorme Che è il debito Hanno delle posizioni Finanziarie nette Molto molto pesanti E adesso Sinceramente Se io Ho Iervolino A prezzi d'affezione L'ho già L'ho anche detto Nel mio video Repilogo serale Su Youtube Proverò a tenermela Però di certo Non la compro adesso Perché comunque La mia paura Lo so che Usare questa frase In tv Suscita sempre Un po' di timore Però io avrei paura È vero È vero C'era una lunga fase laterale Che poi Potremmo dire È stata una fase Di accumulo Però passare Da 0,42 Al 0,70 In due Tre sedute Sinceramente Non me lo aspettavo Però Che intenzione a vedere Che intenzioni ha Che intenzioni ha Che intenzioni ha Pari Nel senso che il mercato Comunque questo rischio Lo sta apprezzando Cioè nel senso che Più che continuità aziendale Forse mi sono Diciamo A paura Della mancanza Di una guida Perché comunque Anche se si chiamava Iervolino E Ledi Bacardi Credo Ma non scopriamo nulla Che Ledi Bacardi Fosse colei Che finanziava E Andrea Iervolino Quello che gestiva Era questa qui La società Vabbè Vediamo Vedere Cosa succede Dopo il 30 Con l'assemblea Sì Bisogna aspettare Assolutamente L'assemblea E Chi ha Titolo a prezzi D'affezione A questo punto Se lo tenga Però Ecco Non Così ti Non incrementi Mettiamola così Ecco Non Non medi Non medi Non mai mediare Non mediare Per incrementare Sì Mediare No Perché No Se c'è strategia Alla base Va bene Se c'è Per rincorrere La perdita No In via Ernerio A Bologna C'è la Zanichelli Fa anche Edizionale Sinomi e Contrari Gli faccio mettere Incrementare Mediare Come sinonimi E poi te lo porto No Assolutamente Francesco da Roma Analisi su ingresso Enel Vendute oggi A 7.05 Ma vorrei ricomprarle Grazie Allora Andiamo a vedere Enel Ma È stato molto bravo Perché Comunque Ha capito Che Nonostante Il taglio dei tassi Da parte Della Fed Di 50 punti base Enel poteva essere Arrivata Di breve E Lo poteva essere Per tutto Una serie di motivi Il primo Che Sui massimi Ha fatto Una spinning top Che è già Una candela Di indecisore Aspetta Aspetta Fammi Fammi solo Crogiolare Di bellezza Della mia trendline Mettiamola qua dietro Guardiamo Guardiamo questa trendline Quanto è bella Guardatela Guardatela La vedete Rottura Allora Minimo Si parte da qua Si crea Con questo minimo qua Si prolunga Guardate qua Rompe qua Scende E guardate Dove ha fatto Di test Stringimi qua E per favore Voglio che Vedano tutti Quanto è bella Questa trendline Hai ancora qualcosa Da dire Sulla mia trendline Stringi Siete tutti invitati Sabato 28 settembre In via Epli presso la notta Libreria Alla presentazione Del libro Trading con le trendline Di Emerick De Narda Prefazione Di Andrea Cartisano Allora Siccome tu Fai le cose difficili Perché sembri Però io ho la mia Casa editrice Non ho bisogno Della Epli Io ho Milano Finanza In caso Eventualmente Ho capito Ma I tipi di analisi tecnica Il monopolio Ce l'ha Epli Per quello che Non me ne voglio Dottor Panerai Ho citato Epli Allora No Dicevo Però Invece di fare Come al solito Il Renzo Piano Dei no altri Tira la trendline Quella facile Per noi comuni mortali Quella che parte Dal minimo Del 6 di agosto Ma quella lì La vedono tutti Ma lo capito Appunto Cerchiamo di far vedere Le cose Non facciamo Ma si parte Prima dalla mia Non da quella lì Dai Disegnami quella lì Per favore No Ce l'hai Eccola qua Allargalà Allargalà Però devo fare Vedi Non mi tiene la candela Di oggi Aspetta che metto Il 24 ore Così evidenziamo Anche la candela Di oggi E facciamo vedere La rottura della tua Trendline Che è arrivata Dopo la mia Ben dopo la mia Eccola qua Alla questa Allora Diciamo che la tua Non è tanto una rottura Quanto un ritest 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 Che fa Da resistenza Quindi Ha fatto benissimo Poi il mercato Ci potrà Smentire A chiudersi Perché Ho già portato a casa Il risultato Non puoi smentirlo Ha già testato E ritestato Basta Sì no Però lui ha chiuso A 7.05 Non è che ha 5 In quel titolo Per cui È ovvio Che se rimbalzasse Uno dice Ma come Rimbalzasse Ci stai dicendo Che è più probabile Che scenda I segnali quali sono Il primo Una spinning top Simil doji Nella seduta di martedì Sui massimi di periodo Poi La rottura Oggi Della rialzista Quella per noi Comuni mortali Partita dal 6 di agosto E attenzione Una importante Divergenza ribassista Che c'è Da qualche seduta Sull'RSI Che era arrivato O peraltro Ben oltre 80 Quindi il telespettatore Ci chiede Un prezzo Di rientro Un rientro Aggressivo È 6,98 Io lo sconsiglierei Direi 6,87 e mezzo Minimo 5 di settembre In alternativa 6,81 e 3 Minimo 4 di settembre Vale quello Che dico sempre I livelli Sono livelli Piuttosto chiari Come il supporto Statico Non è che Se toccano Quel prezzo Ci dobbiamo buttare Il titolo Deve Mettersi Un minimo In laterale E cominciare Una fase accumulativa Per cui ribalzare Però sul fatto Che abbia chiuso Sto profita posizione Mi trovo assolutamente D'accordo Va bene dai Siamo arrivati Al momento Di chiudere La nostra puntata Di oggi Di analisi tecnica Grazie E la fascia tre Ringrazio Grazie mille Come sempre Ad Andrea Cartisano Che avremo il piacere Di ritrovare Giovedì prossimo Ciao Andrea Un caro saluto A tutti